Ehi tu! Dici a me? No a sto cazzo! Certo che sto parlando con te! Te cretino! Sei stanco dei soliti energy drink che ti promettono forti sensazioni, ma l'unica sensazione che senti è la voglia di sputare la sudicia merda che ti hanno appena propinato. Beh, effettivamente. Vorresti bere un energy drink dalle proprietà talmente esagerate che in pratica è illegale in 75 stati del mondo, ma è comunque capace di renderti una vera forza della natura? Ma, magari. Più convinto! Sì, sì. Ma che cazzo, non ti sento! Sì, ho detto sì, porca! Allora hai trovato la bevanda che fa per te. Taurus Soda Super Mega Hyper Power Energy Drink. Ma è un sogno! No, è tutto vero, coglione. Provane una. Taurus Soda Super Mega Hyper Power Energy Drink Grazie agli elaborati studi del dottor Stronsatovic abbiamo scoperto una formula incredibile. La sua composizione radioattiva migliorerà le tue prestazioni aumentando la tua ignoranza oltre il 235%, portando i tuoi livelli di cattiveria e brutte maniere over 9000. It's over 9000, Park! Anche gli atleti della nazionale di furto con scasso bevono Taurus Soda Super Mega Hyper Power Energy Drink. Anche io bevo sempre slavo cola! Devi dire Taurus Soda Super Mega Hyper Power Energy Drink? Ma a me fa schifo quella cagata! Lo so, ma ci pagano per dirlo, coglione! Ma a me fa cagare lo stesso! Ma non puoi dire che fa cagare, dai! Muoviti, pagliaccio! Taurus Soda! Soda! Non me fa cagare! Always Taurus Soda! Se vuoi essere brutto e ignorante come la merda Uno schiaffo in faccia non è mai abbastanza Taurus Soda Classic è quello che fa per te Dove c'è ignoranza c'è Taurus Soda Always Taurus Soda Always Taurus Soda Via 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 che spot di merda Ma davvero una cosa Ma che cazzo Piaahahahahaha HAHAHAHAHAHA Merda Benvita usola